Ciao, sono Valentina. Io Martina. Valentina. Siamo dell'Istituto Rufa e abbiamo vinto il secondo premio. Abbiamo dovuto realizzare una Smart Share che si chiama OHC con lo scopo di unire funzionalità e ergonomia e abbiamo deciso appunto di inserire il logo d'Olivetti nel bracciolo della seduta che richiama appunto la O sia nel colore che nella forma e vogliamo ringraziare appunto il nostro istituto che ci ha permesso di partecipare a questo concorso, i nostri professori e il mio team.